Il lavoro del pasticcere e dello chef in generale sono dei lavori che comunque sia molto creativi e di passione, ma allo stesso tempo anche dei lavori di responsabilità perché comunque prepariamo del cibo, delle pietanze da fare comunque mangiare a delle persone. Di conseguenza bisogna farlo nel migliore dei modi, sia sotto l'aspetto del gusto, della presentazione e sotto l'aspetto sanitario e anche tecnologico. Di conseguenza per approcciarsi nel nostro settore è alla base partire da una formazione importante. Red, situata in Abruzzo, è una scuola che è un punto di riferimento per quanto riguarda la formazione professionale nel centro Italia e chiaramente anche a livello nazionale. Fornisce dei corsi che sono dei lunghi percorsi per pasticceri e per cuochi e allo stesso tempo dei corsi di specializzazione dove a fianco di grandi maestri si possono apprendere e approfondire le varie discipline sia della pasticceria che della cucina. La scuola è dotata delle migliori attrezzature e delle aule con delle postazioni individuali per la lavorazione pratica molto molto comode e pratiche. All'interno di Red esistono anche delle sottofamiglie di attività che sono una riguardante una disciplina artistica che è lo zucchero artistico di cui mi occupo io direttamente che è la Zucchero Artistico Academy e l'Accademia del Gelato seguita da Franco Palmieri. In questi corsi si possono seguire dei veri e propri master di specializzazioni con diverse durate dove poter apprendere tutta l'arte della decorazione artistica attraverso l'utilizzo dello zucchero e tutto quello che riguarda il mondo della gelateria attraverso le conoscenze e le abilità di Franco Palmieri che è tra i docenti di gelateria più rinnovati a livello internazionale. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori